Perché? Quale forza latente alimenta queste fiamme? Percepisco, più della semplice volontà può essere Logos. Sei davvero divenuto libero. No, io lo proibisco. Tu non sei un Dio. Sei fatto soltanto di carne e ossa. Tu non sei uno di noi. Vi abbiamo creati, tutti voi. E come vi abbiamo creati, possiamo distruggervi. Un tempo, forse. Ma ora non ti apparteniamo più. Le fiamme sono nostre e ardono all'unisono! Non hai imparato nulla. Dannato è lo schiavo che rivolge la piaga contro il suo padrone!